Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come potete vedere sono sul nuovo gioco, giochino, giochetto, gioco, super hit boy, devo dire che ho visto molti video online, mi è piaciuto veramente tanto il suo gioco, e anche se ci sarà da incazzarsi, ma spero di rimanere il più calmo possibile, e quindi proviamo, poi sto notando che, non so se magari sono nella prima parte, nella parte principale, che sto registrando 50 flaps, cosa che non è mai capitato il suo gioco, perchè sto caricando anche dei video, quindi spero di non laggare. Allora, ricominciamo ragazzi, con il primo level, CH1, The Forest, vai pro lei, guardate che, allora, 46 è ok, vediamo sti filmatini di merda, ecco, mi chiam bene, mi si dice i coins, non ce l'ho, no, scherzo, The Forest, mi cratta la pancia, livello 1, ovviamente vedrò se arrivare al 100%, perchè, vabbè io c'ho il joystick, che si fa, ok, i primi livelli ragazzi sono facili, poi vedrò se arrivare al 100%, quindi fare tutto quello, sennò, fare solo tutti i livelli, va, fa culo, perchè, sinceramente, qua dove cazzo, si ora, se ti devi, però mi fai più attivo, oh, cazzo fa tutto l'ampio, merda, ma cazzo, e dove cazzo vado, ma cazzo, si corre anche, grande, ok, allora, vai vai, corri, 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 merda, prendiamo il bondage ragazzi, che serve, dai, olè, vai ragazzi, banda e jets, i primi livelli sono un po' così, a cazzo di cane, che cazzo è, no, di qua, vai, vai, merda, 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 ok, vai salta, salta, merda secco, salti no, salta madonna, salta, e appiccicati un po', beh, che cazzo ha piccato la testa, oh, mamma mia, che sentazzo, olè ragazzi, quanto siamo, buh, sono 3 minuti, ho già fatto 800 livelli, andate così, ok, avrebbe più facile, uh, facile, grado A più, per completare il livello dovrei fare tutti i grado A più, cosa altamente impossibile, e prendere tutti i bondage, poi ci sono anche dei portali, da quanto ho potuto capire, grande, però penso, magari ci proverò a fare qualche livello così, alla fine, ma non ci riuscirò mai ad arrivare al 100%, no, la mia più a morte, olè, grado A più, ragazzi, allora, qua, che cazzo è così, ah, questo qua, quello che si spacca, merda, oh, olè, grado A più, ma qua sto spaccando il culo a tutti, faccio 5 livelli in un minuto, qua, ma so, ho capito, ecco lì, ole, no, merda, uh, oh, merda, uh, mamma, mi sono salvato appena di culo qua, anche io, ma su qua, si può fare un po' i cazzi suolo, no, sempre rubarmi, come cazzo faccio a prenderlo, cioè, ma io non lo so, merda, ma salta, ma è, allora, calmati, ma no, ma io non lo so, o si appiccica, o c'ha le pattine, fermo, olè, oh, grande, si sta facendo ardua la situazione, non mi ricordo più neanche da quant'è che registro, però, ecco, come cazzo faccio, oh, portale c'è, come cazzo, oh, ho capito ragazzi, forse, ecco lì, vai, vai, merda, no, olè, ma no, ma io mi chiedo, ma è possibile, salta, vai, olè, primo portale ragazzi, cerco di completare qualsiasi cosa che veda, oddio, che cazzo è? mi ha fatto l'occhiolino, oddio, oddio, che cazzo è, oh, oh, oddio, oddio, ma che cazzo è questa roba, corre, spiderman, ma sì, ma è proprio, c'è il tuo posto proprio io, spiaccicato, oh, 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 oh Olè, vai così! Sì, vabbè! Uh! Merda! Mannaccia teo! Ecco. No, vai! Oh, Santa Madonna! Oh, quasi... Ta! Olè! 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 Ce l'ho fatta, ragazzi! Ah, ho sbloccato Commander! Grande! Portale. Come vedete, abbiamo fatto 11 livelli, tra cui 3A+, abbiamo preso un bondage, che poi dovrei vedere su internet un po' come Evo, e il primo portale. Grande, ragazzi! Partiamo col dodicesimo. E abbiamo passato i 7 minuti! Oh, posso scegliere adesso! C'è pure l'elefante! Oddio! Floaty Show! No, però scelgo il mio Meat Boy, che... mai sono innamorato. Vai! Ok, ancora sto coso... Ok... Che ce l'ho fatta, quindi... Olè! Merda! Olè! Vai così! Che dite, ragazzi? Riusciremo a completare tutto in questo video? Penso di sì. Penso si fa tutto amplio! Merda! 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 Ma cazzo l'avevo preso! No, quello lo voglio prendere, ragazzi. Mi interessa, anche se ci piego 3 anima... No, ho saltato! Ma che pirla! Che pirla di questo! Grande! Calmati e... PATE! Olè! Secondo bandage! Me ne manca uno che... Se ce l'avete non so come cazzo si fa prendere... Perchè non salta? Oddio! Grande! Olè! Faccio sempre olè a ogni livello per casarmi, però... Ok... Merda! Che cazzo è sta cosa? Sta pala di cacca! Oh! 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 Mamma mia! Che cosa è successo? Mamma mia! Come l'ho orato qua! Mamma mia qua! Si vede la classe del principiante! Più che classe è fortuna, però... Guardate qua! Guardate qua! Qual cazzo ho fatto qua? Oh! Mamma mia! Ecco! Non uscirà mai più questa roba qua! Eh! Caga giù! Merda! Dai! Mmm! Olè! Olè! E olè! Merda qua! No! Che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Oh! Mamma mia! Che cosa ho fatto? Oh! Ti scagazzo o no? Merda! Come cazzo faccio? Oddio! Ma è questo? Almeno si fa così, sai perché? Magari butto a caso! Olè! Però non c'è bondage, no! Ok! Io non l'ho visto, ragazzi! Poi... Non si sa! Eccolo lì! Mecca! Proprio... Dai! Sata! Oh! Qua non mi prende! Oh! Non mi prende! Qua mi prende! E lì mi prende! Ah! Lì c'è il bondage! Quello vi prende! No! No! Ma come cazzo stai? Oddio! Sei proprio suicidato! Se non prendi proprio i crepi! Oh! No! L'avevo fatto! Ecco! No! Aspetta il mio boi! Allora... Adesso! Ma per... Mi devi sfracellare! Ecco! Dai! Ti svegli! Ecco! Porca di quella loggia! Non cazzo! Uh! Uh! Fermi tutti! Fermi tutti! Fa culo! Fa culo! Va! Strachelle! Che cazzo fa? No! Ci riprovo! Fa culo che lo vuoi prendere! Ma perché si deve sfracellare! Ma perché si deve sfracellare! No! No! Salta! Ok! È partito! Super Meat Boy! Non capisci più un cazzo! Ma vabbè! Lascio lì perché non riesco a fare la tecnica! Lo prenderò più avanti! Odee! Grado a più addirittura! Vabbè ragazzi! Lo prenderò più avanti! E' andato sul morto! Oh che cazzo! Oh tu il culo! Uncinate! Uh! Ma dai ti pedi qua! Ma la lama! Olè! 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 Mamma mia! Olè! Quanto sono? Boh! Non mi ricordo più neanche da quant'è che sto registrando! Merda! Bondage! Grande! Gravo! Oddio! Dai! Vai! E ancora! Vai! Oh mamma mia! Che cazzo faccio io? Come cazzo faccio io? Ma vuoi prendere? Che mi ha proprio sfracciato il cranio! E ancora? Allora... Nooo! Perché hai dato la testata? No! Sali! Sali! Nooo! Nooo! Ce l'avevo fatto! Ce l'avevo fatto! Ce l'avevo fatto! Nooo! Ragazzi! Allora... si prende addio brava no no devo dire che hai fatto una grande cosa che ma c'è troppo boh scivola che c'è troppo sangue immerso non la faccio più ragazzi siamo al primo livello ragazzi mangio solo vedere il più livello vai grande corri 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 mamma mia guarda un'orgia di super miss boi siamo al boss ragazzi siamo al boss però devo dire che come primo livello non è messo male eh abbiamo già preso un po di di cose quindi dai boss completiamo il primo livello in questo video e vaffa culo poi proviamo nel secolo secondo ovviamente non di questo livello perché mi sono già stufato oddio carne bruciata interessante com'è oddio che cazzo oddio via via oddio via 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 oh my god e quel cazzo faccio lì nooo via super via super miss boi ci sono poi gli scoiatri che corrono via 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 da qua via da qua oddio mi sono salvato di curo no porra città via 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 come cazzo faccio e come cazzo faccio qua no devo uscire aspettate ho capito ah merda secca via 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 che cazzo va veloce qua vai vai super eh quando corro qua mi sfraccello sempre allora lì non si corre olè ma adesso mi spieghi perché non è entrato oh ma no ma perché oh ce l'ho fatta questa volta vabbè vai che cazzo è qua oddio 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 ce l'ho fatta non ci credo non ci credo esploso esploso ciao parca puttata oh ha scoreggiato si cos'è un pipistrello mo no nooo tutti scogliato una testa di scogliato senza corpo no tutti morti e solo uno vivrà l'uvi che piangerà che piangerà no madonna adesso no oddio oddio mi ha sfracciato la testa allora live world 20 su 20 dark world 0 su 20 non so cosa sia bondage 3 su 20 non trovate solo 4 20 non so e whops 1 su 4 continuiamo ok grande ragazzi guardatele mamma ch2 di hospital l'ospedale ok ragazzi quindi ma poi ti risblocca l'altro due da oddio che c'è questo super meat world questo qua non l'ho fatto ragazzi super meat world lo vedrò comunque ragazzi abbiamo copriato il primo circa 1 poi vedrò se fare un 300% però non non cioè almeno ci provo ma non credo di riuscirci quindi spero vi sia piaciuto il video spero vi sia piaciuto l'episodio non so quanto sia durato quindi fa niente mettete un bel mi piace se vi è piaciuto e se volete altri video e un bel commento noi ci sentiamo nel prossimo video nel prossimo episodio ciao a tutti